Nel giorno in cui il commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo è atteso a Torino per fare il punto sulla campagna vaccinale, prende il via in oltre 500 farmacie del Piemonte la possibilità per le persone fra i 60 e i 79 anni di farsi iniettare la terza dose del vaccino, persone che abbiano completato le due dosi o la dose unica da almeno sei mesi. Nell'Alessandrino sono una sessantina le farmacie aderenti. Direi che anche nella nostra provincia prosegue l'impegno delle farmacie nella lotta alla pandemia, nella lotta al Covid-19, proprio attraverso l'implementazione del servizio che già da qualche mese, da oltre 4 mesi è in atto nella nostra provincia, tramite quindi l'inoculazione della terza dose vaccinale, la cosiddetta dose booster, che da oggi è prenotabile in tutte le farmacie che hanno aderito alla campagna della provincia di Alessandria. In parallelo alla campagna anti-Covid prosegue in Piemonte quella anti-influenzale, che non va sottovalutata e che vede impegnati nei loro studi circa 3.000 medici di famiglia a disposizione delle categorie più fragili. Da quest'autunno però, anche nelle farmacie, dove ad oggi è possibile acquistare il vaccino da parte di chi maggiorenne non è soggetto fragile, si apre una nuova opportunità per l'utenza. Da pochi giorni, da una settimana circa, le farmacie in tutto il paese sono abilitate all'inoculazione della dose vaccinale, del vaccino anti-influenzale, peraltro un servizio che noi da anni chiedevamo di svolgere nelle farmacie, perché in quasi tutti i paesi europei è consentita. In questo momento i farmacisti stanno svolgendo i corsi di abilitazione presso l'Istituto Superiore di Sanità e devono poi essere registrati alla nostra asla di competenza. Il problema attuale è che purtroppo ci sono dei problemi, come l'anno passato, nella distribuzione dei vaccini a pagamento. Insomma le dosi sono molto poche, questo è dovuto all'annoso problema della programmazione annuale della produzione industriale dei vaccini.